Approvato nella serata di ieri, dopo 12 ore di consiglio regionale, il progetto di legge denominato Cura Abruzzo 2. La norma prevede uno stanziamento complessivo di 70 milioni di euro in numerose misure di intervento per diversi settori dell'economia regionale, turismo, commercio, servizi alla persona che sono stati obbligati alla chiusura o alla sospensione dell'attività per le misure di restrizione derivanti dall'emergenza sanitaria. Alcune cifre, 40 milioni di euro a fondo perduto per il settore del commercio, artigianato, professionisti, asili da 0 a 6 anni e per contributi affitti studenti, 1 milione e 700 mila euro per i comuni delle zone rosse e 1 milione di euro per i comuni che hanno dovuto sostenere le spese per l'emergenza covid, 7 milioni di euro per aiuti alle famiglie, 3 milioni per associazioni sportive e dilettantistiche e associazioni culturali, 4 milioni di euro per il turismo balneare, 3 milioni per erogare tutte le borse di studio tramite le Azzu, 1 milione e mezzo per attivare il sisma bonus sugli immobili pubblici. Si tratta di una legge importante da cui partire per aiutare il sistema economico regionale e integrare le risorse, da noi giudicate esigue, del governo nazionale. Sono parole dell'assessore alle attività produttive e turismo, Mauro Febbo, che spiega abbiamo al momento la disponibilità di 40 milioni di euro ottenuti attraverso la rimodulazione dei fondi FESR e FSE e di altre riprogrammazioni su cui comunque stiamo ancora lavorando. Tiepida la reazione delle opposizioni che dopo aver presentato numerosi emendamenti in Commissione e in Aula, molti accolti dalla maggioranza, si sono astenute dal voto finale. Abbiamo fatto di tutto per migliorare la proposta di legge del centrodestra e anche se siamo riusciti a calibrarne l'azione con emendamenti utili a raggiungere settori e soggetti prima non contemplati, restiamo critici verso un testo che ha enormi limiti, primo fra tutti i tempi di attuazione delle misure che slitteranno di mesi a causa dei ritardi accumulati dall'esecutivo nell'approvazione del consuntivo, così i consiglieri di centro-sinistra. Era partita decisamente con il piede sbagliato, ma grazie al lavoro del Movimento 5 Stelle, la legge 118 della Regione Abruzzo è stata sostanzialmente migliorata nella sua forma e nei contenuti, quanto affermato invece dai consiglieri pentastellati.